Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Domani, lunedì 24 marzo, cielo coperto con possibili piovaschi. Temperature comprese tra i 13 e i 17 gradi. I venti soffieranno moderati su entrambi i versanti in direzione ovest-nord-ovest. I mari, mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.